Iva e Vasa per 18 milioni di euro, questo è il segreto di due società che vendevano carburante a prezzi eccezionalmente bassi. La Guardia di Finanza avrebbe notato che alcuni distributori praticavano al pubblico prezzi particolarmente concorrenziali, persino più bassi di quelli all'ingrosso, così il via le indagini, tramite cui sono state scoperte 29 società fittizie che solo su carta acquistavano il carburante dal grossista per poi destinarlo, invece che all'estero, alle imprese pescaresi. Il sistema permetteva così di evadere quasi completamente il 22% di Iva sul costo del carburante. 56 le persone denunciate per dichiarazioni fraudolente ed emissioni di fatture false. La Guardia di Finanza ha sequestrato 25 immobili per un valore complessivo di oltre 6 milioni, quote societarie per circa 2 milioni e conti correnti con circa 3 milioni e mezzo. Questi presunti profitti ricavati da oltre 5 anni di concorrenza illecita. Un'operazione importante in un settore importante, in un territorio importante come la provincia di Pescara. È un'operazione che ci ha consentito, partendo dall'esecuzione di due verifiche fiscali, di risalire nella filiera delle forniture di carburanti a due società operanti nel pescarese di una ingente quantità di carburanti, parliamo di 8 mila tonnellate di carburanti, negli ultimi 5 anni vendute a prezzi direi concorrenziali ma slealmente concorrenziali, poiché i prezzi bassi erano determinati sostanzialmente dalla frode che si era posta in essere grazie a innumerevoli cartiere, ben 29 ne abbiamo individuate, grazie alle quali c'è stata un'evasione IVA di 18 milioni di euro che è esattamente ciò che ha consentito la pratica di prezzi concorrenziali che ha messo fuori mercato molti operatori sul territorio pescarese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.